Colpo interno del Delfino Curi Pescara che all'antistadio flacco di Pescara batte con un gol per tempo 2-0 il penne e si avvicina alla zona playoff. Venendo al match, Iodice con la difesa 3 davanti e Cacciatore a dare sostegno a Cellucci. Il Delfino risponde con un 4-2-3-1 Gobbo Massa e Falco alle spalle di Pastorini. Primo tempo a varo di occasioni al quinto Gobbo, serve al centro Falco che viene murato da un intervento provvidenziario di un difensore pennese. Alla seconda vera occasione Portuali in vantaggio al 28esimo Falco svirgola il pallone e serve inconsapevolmente Gobbo che lavora la sfera per Tamboriello che di destro dai 25 metri freddo d'amico per lo 0-1. La risposta bianco-rossa è tutta sui piedi di Cellucci che fa tutto bene, arriva sul fondo con Lupo che disinnesca il suo tiro cross. Nel finale di tempo sponda di Pastorini per il tentativo al volo di Falco di poco out. Con le immagini di Simone Luciani nella ripresa, il primo tiro di marca pennese e di Cacciatore al quarto che c'entra all'esterno della rete. Poi è Cellucci illuminato ancora dal numero 10 a trovare la manona di calore. Al sedicesimo discesa di Giovacchino che dal vertice destro dell'area di rigore in diagonale non trova la porta. Al venturesimo colpo di testa di Cacciatore respinge un difensore pescarese mentre nel capovolgimento di fronte Falco entra in area grandestro che si infrange sull'esterno della rete dando l'illusione del gol. Al ventiseiesimo un presunto contatto tra Viegas e Gobbo scatena una miccia tra i giocatori. Si perderà tanto tempo. Il Delfino nel finale cerca di sfruttare i contropiedi. Prima Rosini con il led destro non trova la porta, poi lo stesso ex della gara in ripartenza. Libera di Giovacchino, destro preciso per il led definitivo 2 a 0. Termina dunque così un Delfino Curi Pescara che vince ancora ed interrompe di riflesso la striscia positiva del penne. Il Delfino Curi Pescara, penne 2 a 0. Si, hai detto bene. Secondo me al di là del risultato abbiamo fatto una grossa partita su un campo difficile. Quindi lo sappiamo che qua fare punti è difficile perché giocando con la Delfino Flacco le partite sono toste. Quindi loro ci giocano su questo e noi dobbiamo fare la partita che abbiamo fatto. Purtroppo abbiamo preso il gol su un errore nostro, il primo gol. Poi chiaramente il secondo è stato alla fine quindi ci sta. Noi volevamo ricordare la partita però credo che la squadra ha reagito al gol iniziale della Delfino. Abbiamo avuto la nostra occasione per pareggiare la partita, non ci siamo riusciti però. Detto questo noi stiamo facendo un percorso importante. Da quando sono tornato quindi noi veniamo da 7-8 vittorie, non mi ricordo bene. 4 nel 2022. Sì, sappiamo il nostro percorso, sappiamo che per noi sono tutte finali. Quindi già per fortuna che mercoledì abbiamo un recupero, si rigioca. E quindi la testa, già stiamo a mercoledì perché per noi mercoledì è fondamentale. Oggi credo che sia la vittoria, sia molto meritata. Abbiamo dato seguito alla prestazione di Montesilvano dove stiamo facendo vedere anche della qualità maggiore rispetto all'enorme sacrificio che i ragazzi stanno facendo. Mi sorprendono ogni volta. Il traguardo è ancora lontano però partite come queste ti devono dare consapevolezza che ce la possiamo giocare. Il traguardo è lontano però quest'oggi avete messo tre punti in cascina che vi permettono di allontanarvi ancora di più dalla zona rossa. Noi non ci dobbiamo allontanare dalla zona rossa perché altrimenti ci finiamo. La squadra sa che deve fare un percorso. Questo è un anno in cui abbiamo perso tanti giocatori esperti. Cito uno su tutti che è il mio pupillo che è Thomas Silvestri che era il nostro capitano che appenne. Ne abbiamo persi tanti come lui, Albanese, Tine e tanti ragazzi più giovani, molto più giovani si stanno prendendo le responsabilità. Lupo, Gobbo, Massa, Sabatini, Falco e altri stanno crescendo dietro loro. In questo momento faccio fatica a pensare che non sia un miracolo perché certe partite sono difficili da fare quando sei molto giovane. Loro oggi ci hanno messo qualità e quantità però devono andare avanti, devono subito resettare e devono pensare che ci aspettano tante altre partite dove loro devono per forza crescere perché anche oggi non sono soddisfatto di alcuni atteggiamenti, di alcune situazioni che ci potevano costare caro e come hai rimarcato tu dovevano fare un risultato diverso nel primo tempo perché poi le partite se le lasci aperte come domenica scorsa vieni punito e se avessero pareggiato loro in un'occasione, in una mischia, in una palla messa lì, non ci sarebbe stato niente da dire.